Via! Dopo torniamo di qua. L'elagio come al solito Tante e talmente che non dovrebbe uscire un cazzo lo stesso Tutto schiacciato dentro Non dovrebbe uscire un cavolo Questo è piccolo e stupido Proviamo a vedere dove suono Sì eh che qua sai cosa facciamo scendiamo da qua bravo sotto quella piccola ce l'ho tanto quella piccolina ce l'ho ah ma vedi che è passato qualcuno io ho visto le impronte eh ma lì dove cazzo vai? vedi lì? no tagliamo c'ho qua quella piccola tanto il zio se lo sa che siamo qui vedi che sono passato perché ho visto le impronte non so chi sono arrivati da qua mi sa eh qua c'è sotto questa che attraversa tutto è sicuro scendere da qua no scendere almeno vedi dopo qua ci passiamo o qua falla di lì piuttosto allora la senti alla di qua scendiamo da lì scendiamo da qua buttiamo dentro un po' di roba cosa vuoi? sì 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 ma qua c'è la segretta per forza poi c'è più via di fuga anche anche tutto ora l'ho 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 arrivano quindi in teoria questo tagliamo con quella del e che figaro ha tirato giù anche questa porca trota no ha tirato giù anche l'altro anche il faggio qua e dobbiamo mettere a posto questa almeno che almeno salviamo questa qua che è quella che tiene su tutto salviamo questa tagliamo la lila salviamo tutta perché almeno butta in aria vedi già si sta tirando già su questo qua è secco quindi non ce ne frega un tubus eh cazzo devi provo a cadermi addosso e quello lì va tagliato lì in basso che non ci arrivo che miseria si si dopo basta dopo qua ci passiamo non riusciamo a passare giù di dove passiamo eh non ci passi più proprio va bene non fai niente facciamo uno nuovo tagliamo così lo tagliamo qui lì e passiamo di là e andiamo su muovi l'importante è ciurare via questi e questi qua che sono pericolosi che sporgono poi questa la tagliamo via anche lei che così si smolla su un pochino ben su basta beh a questa non ci frega neanche niente si qua ci vuole aprire la motosega però si qua aspetto il dito amici che sono quali più pericolosi questi cazzo basta dopo quando dirli ci passiamo questo lo buttiamo qual è questo tanto adesso vanno in su questo ok questo è già giù questo è un altro è un altro Già è un'altra roba, adesso appena io taglio via quella, mi davo una sbruffata di olio. Cazzo sono una figata comunque, dici che l'olio l'avevo già perso durante? Quanto pare, a quanto pare non c'è più, non c'è più, ma cazzo è già il secondo. Grazie.